E' una società di agronomi che da 27 anni si occupa di fare trasferimento di innovazioni in agricoltura, in viticoltura in particolar modo. Oggi parliamo di viticoltura di precisione, significa indagare la variabilità presente nei vigneti che vediamo soprattutto nelle zone ad alta qualità del nostro territorio, quelle culturali, quelle collinari. Una volta indagata questa variabilità bisogna capire come intervenire, intervenire con concimazioni differenziate che consentono di risparmiare input e quindi di andare verso una sostenibilità maggiore, intervenire con vendemmie differenziate per preservare la qualità, ci sono oggi vendemmiatrici che separano la qualità più elevata da quella un po' meno elevata, o intervenire anche con macchine che fanno trattamenti a dose variabile consentendo di risparmiare input all'ingresso e quindi avere un'agricoltura più sostenibile.